Buongiorno a tutti, oggi ho deciso di fare un ennesimo cambiamento di temi, di argomenti e così scartabellando tra il mio archivio cartaceo digitale, diciamo, nelle varie sue accezioni ho trovato un documento che me l'ho anche dimenticato di avere, che tra l'altro non so dove l'ho recuperato in forma digitale, in realtà mi ricordo che tempo addietro l'avevo trovato stampato, pubblicato su una rivista tipo Storia Illustrata, però non ricordo proprio il numero, quindi non mi sono neanche messo a ricercarlo ma questo documento salvato probabilmente da internet, ma non so voi obiettivamente dove possa essere oggi ricercarlo è lo statino di Giulio Andreotti, voi direte, ma che cosa ci può, non ci può dire, può dire nulla può dire tanto e non può dire nulla, Giulio Andreotti che ovviamente lo conosciamo tutti è un esponente di punta, uno dei più importanti politici della prima repubblica, ma forse anche della seconda è in qualche modo una sorta di convitato di pietra di tante vicende politiche, ma allo stesso tempo protagonista e indiscusso prima come Gregario, pensiamo appunto ai primi decenni all'interno della democrazia cristiana negli anni, sostanzialmente negli anni fine anni 40, la sua partecipazione ovviamente alle attività clandestine durante il fascismo, durante la guerra, poi appunto la sua elezione all'assemblea costituente pensiamo come egli ha un record sostanzialmente, fino alla sua morte è stato l'unico, il più longevo dei parlamentari italiani dalla costituente in poi, perché non essendo stato ai lui eletto presidente della repubblica, ha continuamente ricoperto un ruolo parlamentare, cosa che gli altri presidenti della repubblica che già partivano da padri costituenti, poi almeno per una legislatura visto il settennato non erano parlamentari, quindi in qualche modo poi sarebbero tornati ad essere parlamentari come senatori a vita, ma nel loro settennato c'era sicuramente un buco di una legislatura, mentre Andreotti che non è stato mai presidente della repubblica è sempre stato parlamentare, quindi diciamo che nonostante egli non sia stato mai inquilino del Quirinale ha avuto comunque questo suo primato. Giulio Andreotti tante volte primo ministro, tante volte ministro, tante volte veramente tante cose. Nella sua vita ha avuto l'onore di ricevere una serie di lauree onoris causa, ma lui di massima era laureato in giurisprudenza e si laureò in giurisprudenza nel 1941 con una tesi in diritto canonico. Che altro dire? Altro dire è che io ho recuperato il suo statino, questa è una copia del suo statino, riferita appunto curriculum del laureato in giurisprudenza Andreotti Giulio, matricola 25308, pensate un po', regge a Università degli Studi di Roma, è stato immatricolato nel 37-38 e si sarebbe laureato nell'anno 40-41. Ma andiamo a leggere i suoi esami ed è interessante vedere il numero degli esami che ha fatto, esami superati 22 con una media del 27,36 e poi vi leggo anche quelli che non ha fatto, quelli propedeutici che non ha fatto. Tra gli insegnamenti fondamentali diritto amministrativo 27, diritto commerciale 27, diritto civile 28, diritto corporativo che oggi chiameremo diritto del lavoro 30, diritto costituzionale 27, diritto ecclesiastico 28, diritto penale 26, procedura penale 28, sappiamo che ebbe tanti processi dopo, quindi in qualche modo aveva anche cognizione di queste cose, voti anche buoni, diritto finanziario e scienza delle finanze 18, ecco ahimè c'è un 18 e diciamo che diritto finanziario e scienza delle finanze, in qualche modo possiamo anche domandarci oggi così con un pizzico di malizia, diciamo visto che il debito pubblico negli anni 80 ebbe a aumentare vertiginosamente e Andreotti fu negli anni 80 il suo decennio d'oro nelle sue attività governative, ebbene questo è sicuramente interessante, poi messo in mente potrei mettere come copertina di questo video una vignetta di forattini molto interessante che si vede i governi di Andreotti in base alle gobbe, quindi una cosa che mi viene in mente in questo momento, potrei utilizzare, adesso ce l'ho sopra una delle ultime ripiani della mia libreria quindi non è il caso di arrampicarmi in questo diritto finanziario e scienza delle finanze 18, diritto internazionale 27, diritto precessuale civile 27, diritto romano 28, economia politica corporativa 27, filosofia del diritto 30, istituzione diritto privato 25, istituzione diritto romano 28, storia del diritto italiano 30, storia del diritto romano 24, cultura militare 27, tra l'altro egli è stato anche moltissime volte ministro della difesa, quindi cultura militare aveva delle cose interessanti, tra l'altro aveva raccontato successivamente alla guerra come il medico militare quando gli venne fatta la visita, lo aveva sostanzialmente, gli aveva diagnosticato una vita brevissima, poi lui quando viene ministro volle andare a cercare questo medico militare ma il medico militare era morto e lui era ancora in salute e lo sarebbe stato per anche molto altro tempo. Insegnamenti complementari, allora tra gli insegnamenti complementari Andreotti ha sostenuto diritto bizantino 30, diritto canonico 30, di cui avrebbe poi fatto la tesi, diritto marittimo 30, mentre non ha sostenuto ma non era ovviamente obbligatorio, essendo solo oltre ai fondamentali doveva scegliere tre complementari, non ha sostenuto diritto aeronautico, diritto agrario, diritto coloniale, diritto comune, diritto dell'Oriente mediterraneo, diritto greco, diritto industriale, diritto minerario, diritto musulmano, diritto privato comparato, esegesi delle fonti del diritto romano, esegesi delle fonti del diritto italiano, legislazione del lavoro, medicina legale delle assicurazioni, papirologia giuridica, psicologia, statistica, antropologia criminale e demografia generale e demografia comparata della razza. Questo è un esame che lui non ha fatto. Mi sembra un curriculum molto interessante, abbiamo trovato questa chicca, ho trovato questa chicca che in qualche modo è fruibile almeno, non è segreta, è questo qua, foglio che ho stampato da questa, ed è una cosa curiosa che mi è sembrato simpatico condividere con voi, il curriculum del laureando in giurisprudenza Andreotti, giuro, matricola 25308. Detto questo, io come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao! Grazie a tutti!